La nostra regione è interessata da un flebile cuneo di alta pressione. Si tratta di un debole promontorio subtropicale che separa due circolazioni depressionarie molto ampie, posizionate una sulle isole britanniche, la quale stende la sua influenza anche le nostre regioni centro-settentrionali e l'altra sull'est europeo. Una configurazione barica che nel corso di questo fine settimana sarà poco evolutiva, garantendo così condizioni di tempo discreto sulla nostra regione, anche se non vi è da escludere qualche rovescio pomeridiano sparso. Da notare la posizione anomala dell'alta pressione posizionata sul nord Europa e al scarso vigore dell'anticiclone subtropicale che non riesce ad estendersi verso il Mediterraneo così come ci aveva abituati negli anni scorsi. Un segnale che sta ad indicarci che l'estate 2020, almeno nella sua parte iniziale, non dovrebbe riservare forti ondate di calore. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Per domani, sabato 13 giugno, avremo cielo irregolarmente nuvoloso con possibili addensamenti, specie a ridosso della catena appenninica, dove sul settore occidentale, nella prima parte della giornata, non si escludono isolati rovesci, fino a raggiungere alcuni tratti di costa. Nel corso del pomeriggio l'instabilità riguarderà segnatamente le aree interne dell'appennino, dove la probabilità di qualche temporale appare posto elevata. Temperature lieve aumento, venti deboli a tratti moderati da nord-ovest e mare mosso. Domenica, 14 giugno, cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono locali rovesci. Temperature senza variazioni di rilievo, venti da deboli a moderati da nord-ovest e mare mosso. Nei primi giorni della prossima settimana avremo una maggiore invadenza della circolazione depressionaria posizionata sull'est Europa, la quale richiamerà correndi occidentali convogliate dal vortice che eseguiterà ad agire sulle isole britanniche. Dunque, l'instabilità prenderà il sopravvento anche sulla nostra regione, con frequenti rovesci che interesseranno maggiormente le aree interne. Diminuiranno anche le temperature, con valori che si riporteranno lievemente al di sotto della media del periodo, una condizione di tempo a tratti instabile ed inaffidabile che molto probabilmente persisterà per l'intera prossima settimana. Per maggiori dettagli comunque invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.medio7.it.